Salve a tutti ragazzi, altro avviso, secondo video avviso a scomparsa questa sera dalle 21.30 sulla piattaforma viola di streaming che inizia per T e finisce per Witch mi troverete in live insieme al resto del party composto da Valentina, la mia ragazza Pierfrancesco che già conoscete, Andros che non è Dark Andros è il ragazzo che mi ha fatto illustrazioni per le 5 creature mitologiche che ho pubblicato diverso tempo fa in realtà è Zosk Tommaso, amico di Pier che si è unito al party per la prima campagna che mastererò in diretta su Twitch, GDR, basata su Dungeons & Dragons quinta edizione, stampo mitologico, che si chiamerà Hub Origine le richieste in privato sono state non migliaia ma sull'ordine delle centinaia senza esagerare di vedere una campagna masterata da me ma la farai mai? Ma farai mai qualcosa? ci vediamo questa sera sulla piattaforma viola dello streaming dalle 21.30 se volete esserci noi siamo lì a giocare e a provare il prologo della campagna in pratica con la presentazione dei vari personaggi e l'inizio della trama io ci sto lavorando un sacco sulla campagna sarà una storia semplice e complicata allo stesso tempo e spero che vi possa piacere se l'esperimento piacerà le live verranno prima ricaricate sul canale dove ricarico tutte le live che faccio su Twitch e poi magari verrà montata, riadattata meglio e portata anche sul canale ma è importante che piace e ci sia un riscontro quindi se magari fa cagare perché l'ho scritta male è diverso quindi abbandoniamo l'idea e buonanotte però se vi piace l'idea venite a dare un'occhiata che magari poi ne può uscire qualcosa di interessante non è luxastra, non sono ai livelli, non sono un professionista sono un novellino di Dungeons & Dragons vicino ad altre eminenze grigie però ci proviamo, saranno lì per divertirci fracitazionismo spinto, tanta mitologia, tanto overpower alla merda perché sono un power player della Madonna quindi preparatevi, ci saranno dei, mazzate, oggetti divini e tante, tante robe esistenziali ci vediamo questa sera con l'inizio di Ab Origine perché cosa fareste se giunti all'apice della vostra potenza vi ritrovaste spogliati di tutto se non desiderare di avere il potere assoluto per tornare per l'appunto all'origine e riscrivere tutto ci vediamo stasera ragazzi alla prossima